Ben trovati all'appuntamento con le previsioni meteo in collaborazione con la protezione civile della regione Campania. Prevalenti condizioni di tempo perturbato al centro-sud per la presenza di un minimo depressionario sul terreno centro-meridionale in progressivo esaurimento nella giornata di domani a partire dalle regioni centrali. Queste nel dettaglio le previsioni per martedì 23 ottobre in Campania. Cielo generalmente molto nuvoloso con precipitazioni sparse al locale carattere di rovescio e temporale anche di moderata intensità. In esaurimento nel corso della mattinata sul settore costiero con residui fenomeni sul settore interno fino alle prime ore del pomeriggio. I venti ispireranno da moderati a localmente forti soprattutto sulle zone interne, da nord-est con raffiche né temporali. Il mare si presenterà mosso, molto mosso, sotto costa, molto mosso o agitato a largo. Ma diamo lo sguardo alle temperature che tenderanno ad aumentare. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. Bene per ora è tutto, grazie per la cortesia e attenzione.